Quanti anni hai Giuseppe? Venti. Piccolo no? E già fai musica? Sì. E scrivi canzoni tu? Sì. Ma non ci credo, ma dove vuoi andare? Fammi sentire dai, che cosa mi fa ascoltare? Una canzone che ho fatto io? Sì. Ok. E i piedi si muovono al suono del vento, le mani che grida sempre per quel vento, e tu che ancora aspetti il tuo momento. E guardati le mani stringiti i tuoi pugni, ed è un pugno alla vita per i tuoi sogni, tanto in questo mondo sai non c'è nemmeno un santo. E dai vita alla vita, e dai sangue al tuo cuore, e sogna sempre più forte. E vai, se vola questo cielo e tu vedrai, ladri assassini, ruffiani ed imbroglioli. E vai, guarda lì dall'alto tutti interi, chi spara a destra, chi spara a sinistra, a nessuno che spari al centro. E guarda lì negli occhi per non naufragare, cammina lentamente per meglio osservare il grande scufo che la ragione sta per fare. L'acqua che ora bevo ha un altro sapore, l'aria che respiro ha un altro odore, pur anche l'amore ha un altro colore. Tante quelle donne sposate al mondo, tante quelle donne pagate al tempo, e poi tanti piccoli fiori strappati dal prato. E dai vita alla vita, e dai sangue al tuo cuore, e sogna sempre più forte. E vai, guarda lì dall'alto tutti interi, chi spara a destra, chi spara a sinistra, a nessuno che spari al centro. E guarda lì negli occhi per non naufragare, cammina lentamente per meglio osservare il grande scufo che la ragione sta per fare. Allora, quando mi fai il vai mi sembra una canzone di un cartone animato. Vai, adesso non mi ricordo quale. Qual era? Vai... Al Tassu Forobor. Sì, Al Tassu Forobor. Cold Rake. Cold Rake, sembra un po' Cold Rake, hai capito? Però stai iniziando bene, sei piccolo, quindi devi continuare a cantare. Hai un altro pezzo? Sì, sì. Fammi ascoltare un altro pezzo. Ok. La pioggia è buona, tutti questi rami, scivola lente. Sulla coscienza, più secondi scurrono, con grande fretta, sulle foglie la rugiada, prende altra strada. E mentre occhi stillanti si apprestano alla sera, il sole della terra prepara un'altra guerra. Ascolta, qui mi ricordi un po' i nomadi, non so se ti piacciono, però un po' me li ricordi. Sì, è uno dei gruppi che ascolto di più. Eh, di fatto si sente. Allora, stai cercando la tua identità ed è importante quello che fai. Tu ti esibisci dal vivo? Sì, sì. Con chi? O da solo oppure ho anche il gruppo, dipende da cosa vuoi. Perché ti vedo timido nel esprimerti, hai capito? Devi essere più deciso. Altra cosa, è già tanto che non chiudi gli occhi, tutti chiudono gli occhi invece tu sei fantastico in questo. Ma fai solo i pezzi tuoi o ti sei costretto a fare cover se ti vuoi esibire dal vivo anche? Sì. Che cover fai? Eh, in genere faccio musica italiana. Io preferisco in genere fare appunto i nomadi oppure facciamo canzoni di rabbù, i vari cantatori, il vino bretano, il vasco. Ti rifaccio la domanda. Prova a rispondermi tirando fuori la voce. Ah, ok. Che canzoni, che cover fate? Allora, noi facciamo i nomadi, qualcosa anche dei pu, liga bue. Hai capito come sei cambiato? Come sei cambiato nel parlare, devi cambiare nel cantare. Prima ti ho detto che fai? Eh, facciamo i nomadi, liga bue. Eh, facciamo i nomadi, liga bue, hai capito? Sì. Lo stesso nel cantare. Nel cantare devi avere lo stesso atteggiamento, hai capito? Ok. Cioè, nel senso, tu ti chiami Giuseppe, sei unico. Cioè, devi far vedere, credo in quello che sto cantando, credo in quello che ho scritto e mi devi ascoltare. Questo è l'atteggiamento che devi avere d'ora in poi, ok? Ok. E ci rivediamo sicuramente live. Va bene. Va bene, va bene. Ok, mi raccomando Giuseppe.